siamo in live bravo 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 andiamo in live quando vuoi tu bravo bravo ma chi cazzo te la dovesse ma come si permette io non lo so mica non lo so deve decidere se devo tenere le mutande o meno ma non ho capito guarda questo imbecil io mi licento io non muoio guarda Gattokiss che già dice ma buonasera stream a Esprit quindi niente musica personalizzata ma hai già finita la musica quindi è finita davvero due ore circa comunque la cacca la fa chiunque ringraziamo il signor Scarfall Mattiacci Bo vedete voi si chiama va bene e Olzo 1 2 2 3 Olzo bimbo Olzo Fidrofiore Bonomelli quanti siamo? siamo in 4 non ci vedi sei ignorante no cos'era? 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 una l'istoria appizzonante te lo ricordi è schifo merda merda dovete gridare però te lo ricordi non sta entrando nessuno è entrata comunque gli è andata molto molto bene si è andata bene ieri ci è piaciuto un sacco abbiamo trovato un sacco di gente ci sono divertiti come avete raccontato sto desti deficienti non c'era nessuno io ero qui cazzo non dico no come era torino corvo bella bella ma non ci vivrei sono obbligato Ronnino 3 mesi grazie Ronnino la buona è molto bella è giocato un sacco di buoni e si anche scafus era che ha scritto adesso sono molto contento intanto è ancora vivo ieri pomeriggio ieri pomeriggio ieri pomeriggio cosa ha chiuso è chiuso perché era un rumeri pomeriggio vi ho visto ma c'era troppa gente non sono riuscita a salutarvi e ora ti tiro una testata sul naso no forte che ha detto che queste cose non doveate dirle no proprio ormai spoiler cosa mi ha detto no credo che ci ha visto ma c'era troppa gente e non è riuscito a salutare c'è troppa gente non è vero mai era una cazzata non c'era ma c'era e quindi ha raccontato una balla era una balla per erano no che non ha neanche male esatto 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 infatti non era a Milano infatti non era a Milano ha fatto bene non essere a Milano doveva essere a Torino era Napoli l'ho visto no non l'accettiamo sta scusa mi spiace trovate un'altra no sta entrato ah no c'ho di nuovo il problema delle manette niente eh no mi carica mi dice downloading handcafs e non va avanti anche a me però anche a me guarda i modelli nick jack cacca 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 era anche la sassavente quindi niente, dobbiamo switchare eeeh ma switchiamo dove? dove switchiamo? per un gioco ci sarebbe vado a sassavente eeeh spese ce la fa a streetbarlo e poi non è un altro e poi non è un altro posso provare eeeh Luke non si può fare qualcosa? non puoi togliere le mani velocemente ma non ho capito poi se è un problema nostro perchè io ce l'ho dall'altra volta credo di si perchè a me e facciamo rainbow si e a sto punto facciamo rainbow si si six esco eeeh grazie mille fermi un attimo con le salve ma cosa vuol dire? a riavviare chi riavvia non devi riavviare ma perchè devi riavviare è deficiente bongoloide ma mi ha avuto i coglioni di otto vittuto di merda che diverso sono sbagliato e ora mi ha avuto il bongolino d'oro c'è Luke che sta vedendo il server aspetta un attimo ah sta vedendo il server bastardi ma tu oh è un ragazzo davvero bello e il cane e il cane e il cane e il cane e infatti il signor cane che da una quattro euro guarda te e i termos vedetemi pochi risparmi da universitario povero perchè siete belli quindi dopo finita a fare la fame mi dispiace esatto ma stasera niente cena no iqfirt non so uccidilo la prossima volta a me è rimasto a connecting server ma non sai in un penticolino di volta dove avviare il titolo adesso sono i miei coglioni l'ultima cosa andava alle medie l'ultima cosa andava un verso in sottofondo ho sentito qualcuno che affogava bad challenge che vuol dire bad challenge yeah grazie mille e ditemi chi c'è dentro 499 corrispondono i 499 per la sub non so no 6 euro e qualcosa i dollari valgono meno si però dovrebbe essere sui 5 euro e 50 non ho mai capito quella roba perchè era 6 dollari quindi 5,50 provate ad entrare adesso comunque sto andando sto inviando l'info del cliente io sono a downloading quindi sono sempre lì ma è la tv di là sono dentro ah ok ce l'hanno fatto era partita la musica della signora in giallo io sono fermo in handcuffs anche io ma lui non era in handcuffs avete fatto cancel me ma imbecilli ho chiuso il gioco ah io l'ho chiuso allora niente quante cose quante cose quante cose solfix buonasera divertiti ieri si certo siamo anche riusciti a vedere bene la fiera più e più volte si non è che ci voleva molto di là quindi ci siamo su poi ci siamo appena infinito è sempre un buco di culo sta morendo dobbiamo risolvere ma più grande lo pagate infatti no dobbiamo risolvere sta cosa devo rifare come altra volta togli tutto quanto da workshop aspettate che palle che palle eh fate una parita a gatto e una parita a karim tanto si beh che altro comunque penso finirei più che ha scritto tolto le manette e dice che ha tolto le manette eh ma ora ho fatto partire le bossiche aspetta eh però tu decidi però adesso stiamo parlando davanti niente facciamo le bossiche se basta no ormai facciamo varemmo lo proviamo l'altra volta eh ma ragazzi sapete dirmi perchè ogni volta che chiudo Gary's mod mi si blocca il computer e devo riavviare perchè Gary's mod non lo so in realtà quando si apre di solito si blocca sei già entrato tu Karim? eh prima Karim sto aprendo di solito quando si apre si blocca e Gary's mod upre un po' mentre è carica facciamo il change della live ce l'ha fatto beh scafu però dai di stand ce ne erano abbastanza per lo spazio che quanto grande fanno stand te cosi danni per stand che altro stand sono normali come gli altri stand 800 euro dipende quanto spazio prendi anche perchè anche 800 euro non sono tanti eh no infatti dipendente dello spazio perchè se è uno scavuzzino allora si va anche bene va anche troppo ma se è abbastanza largo eh sono anche giusti no mi devo prendere i play infatti non trovo proprio chiesto quanto grandi Rust dovevi provarlo poi persone in realtà in realtà era un stream abbastanza vuoto la fiera non c'era la calca non non so neanche cos'è ricerca fan su youtube è terra e non lo so c'è piaciuto il ride dove? su coso? piramosca o comunque il pittuzzi 1 euro e 50 ah vabbè oggi dono tutti e dono anche io ciao belli grazie va bene comunque il ride ci avete ucciso eh 3x3 si fosse un po' tappo 100 euro io non vi ho visto il tuo comics abbiamo anche scritto su facebook dove trovarci un orario preciso eh si alla fine così non possiamo fare non è che possiamo dirvi ogni secondo dove sia non abbiamo un gps incorporato ma torino è sempre stata una bella fiera ma il prezzo del biglietto è troppo per quanto offre in effetti il prezzo è un po' altino quanto è scusate? 13 euro eh 13 euro intero effettivamente la fiera è piccolina per una cosa che effettivamente la fiera non offre nulla gli altri mi hanno detto che a livello di fumetti c'erano tipo due stand tutto il resto era gadgetistica mai le cose sì c'era poco dei fumetti madonna che tristezza c'era la zanna c'era anche lo stand delle cover dei cellulari per dire cosa? domani mattino facciamo The Escapist? probabilmente no martedì martedì faremo probabilmente The Escapist domani niente no domani mattia facciamo un'altra cosa domani è prefestivo porca troia lavoro domani è prefestivo ma martedì è festivo no 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 non cambia nulla noi registriamo diciamo sempre live noi aaaaaaaaa l'indicazione cortisemente io sto finendo di entrare bene bohsaf eh mi sta di no quindi nulla a che vedere con RomX beh sì nettamente è più grande il RomX ma non c'è paragone ma il RomX probabilmente è la più grande il Torino era un quinto di RomX era un milione del RomX tipo di milioni grandi più che altro cioè probabilmente era la più grande tra quelle che abbiamo visto noi eh anni fa era 10 euro gratis per i cosplay la CartoonX si avvicina io continuo a non capire perché i cosplayer devono entrare gratis non lo so perché è come se fossero un'attrazione pubblica esatto tra l'altro ecco una cosa che ho visto ieri più del CartoonX probabilmente erano i cosplayer Pitch IsonMegy non bre ma è Pierpollo ma scusami e dice un saluto a tutti voi belle persone sono riusciti a divertire e abbiate incontrato tante belle persone buona live e buon divertimento a TODOX e saranno state un centinaio di voi che siete partiti solo di Twitch perché aveva letto solo liquid a me lasciandomi al discorso di prima a me sta benissimo che i cosplayer entrano gratis perché sentiamo no vabbè non è una poccata è un dubbio entrano gratis perché sono un'attrazione tu manca morto ma chi decide quale cosplayer entra io ho visto gente con semplicemente la maglietta di zoku si con lo zaino vuoto dove dici c'ho il costume nello zaino è in the hall grazie bellissimo un nome e quindi se hai un cosplay entri gratis si vabbè non sono macchine quelli che stanno alla casa no infatti D'alto al Torino Comics è ridotto è ridotto tipo no no tipo 8 euro costa chi decide sulla base di cosa lo decide su quanto è elaborato un cosplay no basta che lo dice o no ma non credo siano esperti di anime quelli che stanno in casa e niente basta che glielo dici ok e infatti non credo che nessuno abbia mai pagato intero infatti mai mai infatti volevo dire che guarda faccio il cosplay dei termosifoni però non è però lì era complicato perché a me non sembra un termosifone no ma sai quanta gente con la borsa dice ce l'ho lì non mi hai mai visto di profilo beh che a volte è anche vero in realtà perché tanti si la portano dentro e poi si si cambia di no no infatti che sia vero o no è una questione però basta quello a parte che tu Corvo saresti quello che ha meno problemi ti potresti veramente vestire da rest da rest da rest non funziona ma fino a un certo punto hai vero i famosi free acts quelli che arrivano con caratteristico free acts servirebbe l'esperto otaku che no credo che abbiano aumentato mal mano il prezzo del torino comics proprio per quello così il biglietto ridotto è quello normale praticamente va bene anche per rientrare dei soldi perduti del mio primo no mai dovrebbero fare tipo richiesta i cosplayer magari se hanno cioè fanno anche su sito se vai a bentorni sento una foto del cosplay domani compro le ssd e soprattutto l'esperto di cosplay va pagato a peso d'oro e quindi e quindi non si ritorna nelle spese no alla fine devi fattare no lo compro le ssd ti hai chiesto johnny i giubbotti ma che vuole ma che hai chiesto ma che hai chiesto ma che hai chiesto ma che hai chiesto ah ho vogliato il premer vudo e come su raster se devi presentare con la foto del personaggio e controllano così vabbè eh sì così la gente entra un video e vabbè faccio una foto a me stesso ma magari magari hanno una fila esatto quanto identità gli faccio vedere proprio stronzo ho messo la trappola e twitch me l'ha fatta subito coltare però non vedo robottine è quello lì vai karim non è twitch preso prendere io credo che quello si chiami in un altro modo cosa è un aspetto di cosplay però solo se hanno le tende ah ehm dobbiamo prendere il robottino dove io ne ho due ma ormai è troppo tardi ce ne ho uno io è infatti individuato c'è un robottino qui qui sfonderanno dall'alto si e beh proprio rimetto mio e ditemi se posso parlare o meno ma si parla qua qua no perchè Gattokiss invece dice ma poi l'anno scorso hanno cercato di terra sul tiroino comics chiamando degli ospitoni da vinticinque euro per una foto e vedo è sopra è sopra sono due sopra gli user più eh è morto eh ma non potevo andare da nessuna parte però in america funziona così Gattokiss se tu vuoi la foto con un nome importante un attore devi pagare per la foto autografata poi eh devi pagare funziona proprio così in america guarda la stanza davanti metta guarda guarda la finestra dite magari dite guardate la camera quello giallo grazie sei molto dito no questo è quello giallo non c'è molta scelta sono tutto distrutto dove sono i nemici perché della fiesta sono tutti fuori sono tutti fuori sono tutti fuori tagli tagli guarda moro da lì sono due eh sono due eh vabbè sei morto no no sono a terra guarda lì sotto guarda lì sotto ho sbagliato vai via vai via fai il troppo ne ho fatto cadere uno e ne uno è morto è questo qua che è bastardo merda madonna ho rotto tutte quante le telecamere tutte tutte tra le una preso esprinci uccidilo bravissimo no è dalla finestra dove cazzo è dalla finestra dalla finestra dalla botola o dalla finestra dalla finestra no dalla finestra eh sto morendo qua no vieni in esperienza mi sta pizzicando mi sta pizzicando mi sta pizzicando vieni 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 mi pizzica guardami sul tetto sulla botola e non posso vedere niente adesso in questo momento guarda dalla finestra aspetta vado io è all'aera forse salito nel tetto eh ho sentito il cordellino eh lo sento su eh vado piano 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 ok sono a posto caribbi sono in due c'è anche iban eh sono salvo che paura iban è qualcuno che non sappiamo chi è non sta individuato ma c'è ancora un robottino paura paura il rinforzo lo sento davanti eh la merda hanno scoperto me via chi ha via ah quindi è giacca all'altro facci vostra no ma c'era un robottino mi sa l'hanno individuato o no ancora eh no è giacca allora mi so avete rotto i coglioni ciao blor ciao blor ciao blorro ciao blorro eccolo vedi il bagno eh il bagno l'ho visto si l'ho visto cadere però se ti alzi è per terra ah è lì per terra dietro il cadavere ma non vale corvo alzati e spar basta scopirla è lì per terra ma per terra ma porca puttana va vabbè mi ha spaventato avesso il braccio di niente l'ho sparato arca vacca là sotto lì c'hai ancora la panata tu ottimo la panata non fa niente eh vabbè prova dietro no sopra hanno sfondato qualcosa eccolo più è merda la mira merda la mira tutti e due tra l'altro lui soprattutto è fucile che ha sparato ma sì l'ho mai preso sotto casa mia avrei passato un trattore dietro il palco che suonava musica tradizionale e vado cos'è dai come di ne è un tutto amaro avevamo fatto dei miei amici con un trattore con dietro appunto il palco si è casciato? e suonavano in giro nel paese ah no ok sembravo fosse casciato uno di noi credo non vedevo no si siamo prendere sledge o termite sledge termite si è spesso ci sono i fucili che mi vogliono sparare da sotto sledge ciao ciao a chi arriva eeeh karim metti la canna lunga al mitro di caveira aumenta la portata dei danni devo metterlo ho tolto il silenziatore ed hai migliorato un sacco eh ma anch'io lo tolio tutti i sensatori però non ce l'ho fatto io ormai non serve un cazzo buonasera buonasera però sono arrivate vale devo farlo anch'io quei sensatori però che stiamo caricando io e karim ma ne fa caso non lo so perchè c'è il tonne nel livellinto e tonne nel livellinto e non ti carica mai embe embe che imbarazzo questa attesa che imbarazzo che imbarazzo ma c'è già un'accazione si si qui non ha la matrice sei simpatico ma dai perchè? cosi? ciao dottor key stasera tutti i coglioni qui questo fa il comico ai teatri ma ancora? ma ce l'ha su col pene esatto si ma niente cosa? ma non si scrive così poi no? con la i con la y con la y coglione ci saranno altre occasioni per vederci sicuramente games week fine settembre sicuro poi no rimini qualcuno di noi rimini qualcuno di noi sicuramente il brianza comics perchè è qui questa zona brianza comics è bellissimo è il primo anno che fanno eeeh poi boh non si sa e ci vai e poi ti provano un sacco di soldi per andare certo anzi magari ci proponiamo a tom sard di mandarci dove cacchi sono? lì sopra eh? fate voi lo stand esatto la creiamo noi la fi fatta così non ci avete neanche il progettato stiamo tutti stiamo facendo un trenino lì sopra lì sopra lì sopra si sono sopra al più piano sono eh gmod c'ha problemi eh si mi spiace adesso vedremo di risolvere un po' eh peccato perchè oggi eravamo anche tanti eh scarin come cazzo si sale da queste parti ce l'avete trovato? e ce l'avete trovato? li ho trovati qui merda no il mio robottino è lì cinque 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 e sono bloccato aspetta occhio che lì è rinforzato l'ho trovato l'ho trovato rumpo io rumpo io ah no ok chiudate prima chiudzo io chiudzo io chiudzo io chiudzo io aspetta che arrivo che quale è tirata su di naso dove fiudzo? scu... dove fiudzo? lì cazzo di cocainomane andrei su di qua quasi quasi occhio che c'è il gemmer eh però c'è il gemmer? eh non so se c'è la lì ma ci sono dei gemmeri eh c'è il giuto qua c'è castle magari lo riesco a fare aspetta lo tolgo? ah vabbè aspetta ah niente no non funziona non c'è il gemmer c'è proprio eh c'è anche dall'altro castle suo carini puoi provare allora aspetta che esco aspetta prova a fare un chop aspetta lizzer non andare qua c'è castle si vuole tiro la granata arrivo aspet sono stato individuato dove è la telecamera? c'è un gemmer ho rotto il gemmer davanti a quella porta lì dove? tanto è dio è una porta eh quindi occhio vai da sopra un gare vai da sopra carica graffi è morto di zero sperda non hai rotto niente il coso ho ucciso uno ce n'è un altro in fondo davanti a te eh non so dici? io ho paura che mi sparino vai da sopra vai da te sei giù e io posso distruggere il gemmer ma ci devo arrivare se no da fuori non lo posso niente ho distrutto sistema di difesa distrutto distrutto e pannello corazzato distrutto forse posso fizzare nell'altra finestra sai? a questo punto posso mettere da qua io guarda rompo qua aspetta rompo quella finestra aspetta rompo quella finestra aspetta no no moro no 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 ah ok forse io adesso posso no c'è ancora lo sento puttana aspetta spaccala mentre ci sono io vai aspetta arrivo ho rotto il sistema di difesa Karim eh come? ne ho rotto uno il sistema di difesa cazzo guarda che ce n'è uno adesso vedevo il puntatore laser che ti pu... verso la tua direzione Karim eh allora aspetta vado via qua non c'è nessuno dove sono io eh qua non so dove sono io potete entrare ma ho paura occhio a sinistra moro non ho visto come cazzo scende da qui? merda sinistra qui mi sono distinto nell'altra stanza mi hai detto non c'era nessuno molto a sinistra la madonna un culo è da solo eh aspetta mono telecamera telecamera e dov'è? era sopra il nemico eh po' eh ho donno non ho neanche visto io eh però cos'è successo? io non neanche visto eh ho visto un... infatti parlo tu di ritaccia non è possibile non ho visto eh ma non da fuori ah c'è anche altro eh no con la granata devo arrivare comunque vicino no 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 fa attraversi io mi sono spaventato non ho visto niente non ho visto fa la cacca e la tiri sopra nel... io metto la canna lunga anche da sotto in teoria funzioni drogato doctor sto sotto la canna lunga no non c'è la canna lunga il fucile di... ma perchè non puoi metterla se non l'hai comprata ma la puoi mettere da qui se non l'hai comprata ah devi comprarle prima ah eh finalmente tu hai toucher corvo potevi distruggere il jammer no che ho detto carimelo puoi dire anche tu per favore che cosa? se avevo toucher potevo distruggere il jammer eh li mettete in muri dove erano prima sono stati individuati infatti io non sono più un pezzo andiamo via qui nooo corvo togli una da qui che sennò mi... eh? perché lo devo togliere? no no niente niente ciao franci metto bui di qua no vuoi asprezzo quanto ci fanno più a prima buonasera c'è io grab ciao e uuure grazie ancora per la sub ah ok guardate anche a... ciao anche a matno matno signor matno ah mi sono caccato eh un buro la 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 aspetta è il no più muro io spero io adesso arrivo il nemico ha individuato il contenitore di bio ricchio no qui voglio dove cazzo? dove cazzo? ah di di fianco qua ecco anche c'è così quasi quasi ma adesso si chiamavano la telecamera tutte rotte le cam... tutte ah già? due ci sono vive ma anche prima le aveva arrangiato sì sì le avevi solo subito anche per la velocità ovviamente ma dove non metto l'altro gm? beh ci sono due uno sulla finestra di telecamera quindi si vede con questa di camera qua c'è sta paretti ci sono ste pareti qua che sono... spertissimo è tutto doppio e infatti dalla finestra dalla finestra mamma mia hanno notto hanno notto la finestra è dietro di te c'è il twitch c'è il twitch no ma... ma non è... ero in modalità silenziosa dai ma che merda l'avevo visto ma ci ha ucciso tutte le cose e no 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 guarda si è girata e ma... guarda eh guarda da dove? eh la finestra a sinistra mi so no da dentro no la finestra è partita ah sì dalla finestra ah sempre lei eh? tutto lei ho fatto ma che mira oh madonna che cazzo beh che bella mira comunque tutto in testa peccati eh ma anche... anche noi ci ha ucciso cioè si è girata ma ha sparato subito che sì è stato fatto in tempo no no allora dai io uso touch eeeh peccato però diiii la finestra è sfregati gatto raccontami una barzelletta no no sto cercando di far chiudere un canale a te no scappusi ah beh chi è? eh no no io termosgattoni ah no no veramente ero te no perché qui si ripara dietro la... no ho letto dei commenti no no vaffanculo deve chiudere ho già mandato il link eh sì lo stavo per mandare anch'io perché un conto no 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 vabbè ne parliamo poi più avanti sì 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 vabbè vabbè c'è giocate più che altro vabbè stiamo un po' vai neppi che di parte ah no vabbè ha formatato a posto 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 perché sul tetto mi ha sponato ma no è vero guarda corvo sul tetto ah se non è fare un montaggio come a fa Matt qui sono no ma poi Matt chiede il permesso esatto te lo fa a vedere prima qui nessuno mi ha chiesto un cazzo e comunque c'è già Matt esatto e c'è solo Matt lo conosciamo lo conosciamo oppure fai come fa Cataclyseman o Jazz che fanno dei montaggioni che tra l'altro ieri ho guardato i due video di Undertale di Sabaku che gliel'ha montati Cataclyseman si sul canale di Sabaku eh vaffanculo è il video più bello di Sabaku troppo eh non posso non posso guardarlo io l'ho sentito Moro ha detto Sabaku merda l'ho sentito no però ma il volo è montato bene è montato tu l'hai visto quello mio di Frause e di Sabaku si l'avevo visto di Mass Effect bellissimo ecco ecco si l'abbiamo incontrato il signor Paolo ha nessun salpic si l'ho salutato ma già alla no no vabbè in TorinoComics abbiamo trovato in persona però non lo sapevamo che fosse lì anche lui sapeva che noi eravamo lì quindi siamo contratti così a caso dove vai Moro? eh non ci arrivo dove posso affiuzzare? vi direi qui è libero puttana vacca di lì no ma dove era quella? no ma poi immagina più visual di gatto che spavento a parte che non è vero beh ci ha divido da 30.000 no ma non l'ho visto dove non è vero ne ho uno solo da 30.000 le scale e lì sono da 30.000 o che c'è uno sopra dove lo svolto con io non è vero non sono comunque i visuali di problemi e' occhio e' anche come si pone con la gente che gli dice fai basta che l'abbiamo detto non fatelo anche perchè i clipini i thermos li mettono su facebook e io li metto nei miei montaggi e quindi sono cose che la gente vede lo stesso non stai dando visibilità è lì in fondo è lì in fondo li stiamo già usando oltre il mamma mia mamma mia è la testa di uno ma dov'era? dai non è dato ma dov'ero buttare via anche il rimbo six? ah si t'ha visto vedi ehi mamma mia questi giocano bene vabbè la prima è solita di riscaldamento come abbiamo fatto quel punto? non me lo ricordo non è questione non è questione di prendere equipi arrivo beh ce ne avevamo ancora un'altra carimbo se volete fare un Posso me lo capire? Chiede per me voi. Vai, 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 vai. Vieni, 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 vieni. Così significa rompere il c***o. Esatto. Sì, fida, allora. Cioè, se volete fare dei video su di voi, chiedete per me è giusto. Se mi facciamo dissi, va bene. A me è piaciuto tutto per il disclaimer. Spero di non dover rimuovere il c***o. Dato che non lo monetizzerò. Mi è perdita la pubblicità. Va bene. e comunque c'era anche quello che aveva fatto il montaggio delle morti di Zuppadi che ha fatto solo quello però vabbè ma è un'altra cosa ma quello li poi ce l'ha mandato quello ce l'ha mandato infatti quello è bene è una cagata Esprit lo facciamo noi perchè appunto voi li caricate su facebook e io li uso per di mix no ma a parte quello quello li non c'è lavoro chiede per me se lo fa vedere ma comunque quel ragazzo si è sbattuto si è scaricato tutti i vostri video e poi ha montato tutte le morti di Zuppadi Cura vabbè ammetti che uno vuole fare un montaggio di un gioco particolare tuo domandi ti chiede permesso esatto come ha fatto Matt mi ha detto io volevo fare The Forest lo faccio da te e da me come facciamo ti scopo? e io gli ho detto si va bene il video invece no infatti non l'ha fatto non l'ho mai infatti nel tuo canale non c'è quel video scrivetemi attenzione codice di errore Tom Clancy e Rainbow Six bene il tuo nato è limitato come? nooo ce l'ho stato aperto fino a ieri Karim? rientro? aspetta Ro ci sono invitami ah beh si prova a invitarlo che vuol dire? però c'ho il nato è limitato a caso? e noi possiamo non ti avesse fatto entrare e no infatti hai detto errore eh si però il nato è limitato dai bravo il mezzo del tubo ti ha risposto e ti ha detto però io volevo scopare metto lo so fare perché tu non sai dove hai messo le mani in questi mesi cosa? continua a dirmi tipo nato è limitato si ma fatti i cazzi tuoi arrivo ma no la signora nato no ma è un messaggio orribile rossissimo che vuole? si leva? si sposta che da fastidio e oggi non va niente oggi niente oggi non facciamo più dai basta oggi è l'internet che ha detto bene e dopo speriamo funzioni Rust ragatto perché è un casino miravano i cuglioni dai i cuglioni i cuglioni i cuglioni i cuglioni ma il modo? un po' di figa qua faccio lo sciacallo faccio lo sciacallo spacco il meranallo dai facciamo i cugli che schifo c'è il cazzo perché veramente se tu scarichi le clip più viste della settimana di ogni persona lei le attacchi assieme bravo bravo 80 di ping con la fibra solo su rainbow cioè no in realtà ma no anzi tu che fai le cose animate di Patpanzo sono anche figli ma in realtà il ping di rainbow è anche sbagliato è sempre un'altra cosa comunque sono altre cose non è che scaricate le cose e fate dei montaggi no non è che se prendi la roba la incolle con un altro è un materiale che non è tuo e spacciare cioè comunque è una roba fan made di noi esatto è ispirata a quello che facciamo ma lo fate voi non è roba nostra ricaricata sul vostro canale no esatto invece quello lì fa solo montag... cioè montagini anche collega le clip e ci fa... no e scarica le clip e le mische come faccio io con i mix è come se caricassi le nostre di facebook e facessi un video semplice così oppure appunto semplicemente il... ma che ripeto si può anche fare se vuoi farlo un montaggio delle nostre messe o non lo può fare no è di permesso è di permesso no perchè lo utilizziamo noi ma no perchè stiamo facendo le stesse cose non ha senso scusa siamo... competitori praticamente è sempre buona fede è sempre buona fede è sempre buona fede è sempre buona fede non ci pensa la buona fede non esiste dal momento in cui non domandi no appunto se domandi perchè se tu fai una cosa senza chiedere vuol dire che sei già che non... ma anche a chiedere comunque tu sai che è comunque una cosa che già Gatto la fa a priori cioè già la fa più però va bene però se chiedi eh... almeno hai chiesto diciamo di no non è che... ti dico di no chiaramente però mi hai chiesto figa mettiamo qua vuoi fare un montaggio dei nostri video qualcuno mi copra aspettate tutti che fiuso non ho capito dove sono però sono sopra nel solito posto sono sopra ah qua aspettate tutti che fiuso aspetta moro che hanno i jammer ti rompono il culo lì eh ho scansionato bandit chi è il jammer aia c'è la scossa lì vediamo se gli tiro il coso ho avuto un jammer ah si fu un quello lì ok aspetta da qui posso flizzare ribellini cinque mesi grazie mille grazie aspetta che posso sfondare moro se vuoi no no vedi dietro vedi sotto che storia dal garage addirittura eh vaffanculo dai vedi qua ma dai ero mimetizzato benissimo poi dai che bello che bello che bello benissimo ma si chiama sto qua poi tra l'altro la cosa divertente è che a me hanno fatto una clip dove dicevo queste cose quindi sicuramente la vista perché era una delle più viste ah bene palle palle invece ho provato quello dai è una buona idea ti amo esprit ah no imbarazzo sentivo quando gli sparano esprit invece di sparare anche lui continua a correre beh io ho ucciso uno mentre correvo e poi una volta mi ha ucciso è che dai ma lo fa per tenersi in forma eh esatto perché il jogging aiuta sempre è questa sera qui fanno i fuochi d'artificio beh è ovvio che lo segua gatto chissà sapere ma no 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 le clip come le prende magari le passa sua zia non so ah che ti segue allora si si ma il problema è come si chiama il canale lei è in buona attenzione dei nostri canali guarda che belle queste clip di potino però lui le usa in maniere nefande possono entrare da sotto qui aspetta dovremmo fortificare di sopra dove sei andato quanto lontano scusa riesco a fare un giampo su no si abbiamo già deciso ne abbiamo parlato un sacco le assunte della aspetta dove stai andando è a chiudere i tarpi di sotto le clip sono visibili da tutti ah le clip sono visibili e scaricabili da tutti c'è un muro da mettere li se è riuscito Torno indietro, come l'ho detto E anche dei muri qui E ho fatto una cagata Volevo salvarvi tutti E dove mancano? Lì e di là, anche là in fondo Se no non so dove mettere le finestre Mi hanno sparato dietro Dove scusa? In fondo e in fondo, ma credo che l'abbia messo morto No, non ce l'ho Ok Ma ci sono tosti Un riassunto scritto di palfinder Ma come fai? Io ormai siamo alla decima puntata Tra l'altro, ecco, per chi Te, scriveresti un libro Ah, c'è uno qua, eh? Ci sono Puoi aprire il corpo, per piacere? Cosa non state comiando? Lasciolate quello Sto abbiando la porta Non rompe la finestra, non romperla Ah, c'è uno qui Qualcuno è senza giubbino? Stai attenti, da sopra magari li fiuzzano, eh? Eh, certo Io sono sempre giubbino E io ero andato di sopra per chiudere le cose, ma mi son perso Non serve a fiudere qui tanto No, le cose in alto Non serve E allora, puoi fiuzzare ovunque Puoi fiuzzare ovunque Ah, non lo sapevo, vabbè E' un po' davvero Comunque, per chi vuole Oh, sono postato, c'è nostro gatto, come è possibile? Eh, c'è mia morta Ero qua incastrato nel muro E' rotto Twitch Ok, sta arrivando Stai attenti, è pieno di robottini C'è un robottino Ma porca... Ah, che culo Che culo, che non è questo gatto? Per sparare il gatto Eccolo, c'è Frost, è qua C'è un ucciso le testoline Ragazzi, dalla botola Anche da qui Sono là, sono là Anche da qui Così mori subito Allora, tu copri qui Io guardo qui E Corvo guardi la botola Ok Però tu non devi fare in modo Sono il capo o stai qui? Di morirmi Ma sì, ma fumetti di Pathfinder Di tirare la nostra, van bene Quelle cose van benissimo Ma sono cose comunque che non c'è Ma perché non capite? Quello che non potete fare È prendere, in blocco E facciamo il collaggio di video Ma dove? Twitch, è dal buco che stavo guardando io Ma in pratica sono morto E l'hai uccisa sì Perché l'ho tolto metà vita Dietro, è in fondo C'è Frost Ma quanto cotte? Scusa Ma poi Scusami perché non hai speso la bomba di Corvo? Ma cosa? Mi hai sparato io? No, non avevano rotto la bomba Ma te hai una più vita No, è un pozzo L'ho visto anche nella Kill Cam Ma che merda E vabbè è spato a caso No, no, no Si vedeva Dopo l'hanno... Non è da lì Non ha miato bene Ha spato a caso Però ho tentato in testa dietro Twitch mi ha ucciso Perché è entrata Ma non è esplosa la bomba di Corvo Non l'hanno rotta Perché stavo mirando No, l'hanno rotta È per quello che mi ha sicuro Non credo sia entrata proprio È entrata per metà corpo Ma porca troia Per chi interessa Pathfinder Come iniziare così Domani esce un bel video di E-Not Sul nostro canale Spiega le basi per iniziare Pathfinder Da chi guardare Da chi guardare Un po' come iniziare tutto il resto Quindi se volete vederlo Sì, è un video dove si dice Non guardate nemmeno Guardate lui Esatto, sì Quindi il video dura un attimo Proprio Una, sì, sì Una cazzata Ho sentito un gember Ho sentito un gember Quindi o sono sotto O sopra qui Vado a vedere sopra qui Ma non credo qui sopra si possa Sotto un calzo Oggi credo anche io Eh già Cari, ma hai rotto i marroni alla direzione? L'ho fatto? Sì Eh, bravo No, non sono sotto Ma senti sotto? C'è qualcuno nel piano terra a caso Non capisco Non sono qua Sono sotto confuso Sono sopra sopra No, no, sono sopra 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 sopra? Sono sopra nello stesso posto di te Eh, sono le tè scale È bello che mi dobbiamo Trovatelo Ingaggio autorizzato Eh, ma è unito l'americano Ah Io mi farei un caffè americano No La Che cosa ho sparato tantissimo Ma sti cani che abbaiano Io gli sparo Ma sti cazzi Ma poca puttana Che abbaiano C'erano troppo i gemme Non sono uscito a entrare Ma di qua? Moro Altra telecamera Aspetta che rompe le telecamere Sì, lì davanti sono Puttana Che mi ha sfondato qui Io, io Perché? Perché vedo se ci sono impronte Non mi sono sempre là E occhio che potrebbe essere dietro Anche quando giro Sti bacconi Lì, là Sono sul dato di dietro, occhio Ah, lì, lo vedo Che paura c'era Caveira, ragazzi Aspetta, aspetta Tornate indietro da me, veloce Non posso tornare indietro Vabbè Ma che morti Ma dietro Come è possibile? Ma perché mi ha chiesto in giro? E niente No, Caveira Ma c'è perché fa il giro del palazzo Porca vacca Ogni volta non mi aspetto No, vabbè Ma incredibile Non c'era un'impronta Per riservare A destra Che caga Sotto Valkyria sotto Anche Alla scala Ma calma Lezar Sono qui di migliore L'avete visto, no? Eh, sì Ho sparato ovunque Tra le calure Non usciva tutto fuori Di un che Non era facile Alla destra, eh Però ho sparato Più, sì Vabbè Cosa è successo? Fumogene Fumogene Ho paura che arrivano dalle altre parti Eh, ma sicuro Da là Da valkyria Ho individuato Che situazione di merda È sotto Valkyria è sotto Ecco Che bel posto Ah, no Bazzia Eh, guarda, non è possibile E' una come, come Niente, oggi non ce la facciamo E' una come Speriamo la prossima, dai Settimana prossima Proprio Esatto Sì Sì, la prossima Bravissimo No Guarda, stai in piazzo Ma Ponzo Merda Stai in piazzo Culo Di merda Che vanno? E' un bè Eh? Eh, eh Questi avversari Voglio andare Nella ultima stella A bere un alcolico E ascoltare il jazz Tu? Appena non usi Un alcolico A 10 metri di distanza Ma infatti Siamo malissimo Ho detto che voglio No? Ho detto che riesco Vorrei quindi Vorrei, esatto Ma non posto Magari qua in casa Mi bevo qualcosa Di alcolico E poi muoio Nel letto Voglio vedere Io invece mi bevo Della salutare acqua Altissima Purissima Ma la levissima Fa veramente caccare San Benedetto Per la vita Del tronto Di acqua di rubinetto Per la vita Ha proprio Sa di Sa di Coca Cola Cosa? Di Di La Di chi è che Qual è quella della Coca Cola? La levissima No, non la levissima Scusami La La vita snella La vita snella Quella di La Coca Cola Company Che schifo Sì, sì Ma poi come d'acqua in bottiglia Guarda te Bozzoni Scusi Cosa vuoi? C'è l'acqua in qua? Io c'è la quale Tutte della fonte Che mi viene in casa Ma infatti A me la fa Il frigo L'acqua Ma cosa c'entra Con la mia preferenza Riguardo l'acqua in bottiglia Vai Honey Vai Honey Grazie Della Resume Grazie Come in realtà Sono tale Ma allora Non ho capito Forse perché avevi saltato un mese Eh, provare Twitch ogni tanto Allora Eh, magari è cambiato Da normale A Twitch Perché me ne sbatto io Dei piatti Ma c'è un robottino Ma che c'è Ma come? Non mi andare a mettere Il giubbottino Un altro robottino in arrivo Niente Eh, no Vaffangulo va Vai lì Vai dietro di te Ho preso Ancora dieci secondi Eeeh Per cui dai Così L'acqua del cesso Il giubbottino I giubbottino li avete presi Io, io Dove apre io E uno di Qua i muri Qua i muri Iliezar Ah Cretino Come sono passato Non lo so Lei è un cretino È sempre stato sotto Guardate Sono stato individuato Perché lì c'è un robottino Adesso non c'è più Lì c'è un robottino Ragazzi io non so dove mettere la seconda Ma no, avete chiuso Bastardo La seconda mira La metterò di qua Da una parte opposta Ma che Un fiugio Bastardo Ma no, un colpo che sono per terra Davvero Quattro Vetta No, c'è Non arriva Madonna Ma porca puttana Ma mi ha sparato Ma mi ha sparato Ma ma cazzo arriva A fiugio di volte La cazzo che ci vengo lì Lallish Ma sì, adesso ci vuoi venire Tranquillissimo Grazie Lallish C'è La granata è una ta storta La granata è una ta storta Madonna Impecile stronzo Pezzo di culo Vergognoso Bastardo E' andata storta la granata Comunque di rifiuto Ho visto la mia kicker Che la merda sia con te Guarda che sei proprio morto da stronzo Ma Dio Ma fa' il culo Grazie al cazzo Grazie Lallish Vieni, vieni Mi salvi facile Vieni, vieni Pezzo di merda Ma ci sono anche io C'è, ci sono anche io La finestra era dritta da una parte E' andata andata dall'altra Perché ci dai La granata è andata dall'altra Ed eravamo distantissimi E' andata obliqua la granata No, ma perché Ok, è andata obliqua Ma no E' una roba che La dritta Perché è andata storta Scusa Noi eravamo distantissimi Espri E' andata nell'angolino Caccati Eh no Ci è andata in faccia A catamore Per quello che siamo morti No, no Infatti quando vi ho visto cadere No, no Sì, da me sì Invece C'è piaccia Vosce dalle vostre parti Invece era dalla parte Era un'altra Era un'altra Era un'altra Da me è andata più in faccia A me è arrivata Perché è andata È parita dalla finestra E' andata storta Ma perché E' andata storta Scusa E' Poca puttana Spare le grate dritte Cosa vuol dire Famose granate a boomerang Che cazzo vuol dire Scusa Infatti Già che poi rimbalzano Cazzo Quella non è rimbalzata Quella è il problema È proprio andata Verso di noi Sì, mi sa che sono lì Sì E' che vuol dire No ma il raggio Nella seconda esposizione Stava il raggio Perché era giusto Il raggio Io me la più rischio Perché era accanto a me Ma come è tanto di stare Rassù Eh c'è le scale Ah eccole Ah non ho messo cazzo Eh Buono posso Suttar Oh c'è Jager 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 Vabbè io c'ho il mute Il toucher Porca va che bestia Sono stato individuato Eh dove cazzo era qua E' ridotta Bene C'è a me va anche bene Che rimbalziate un pochino Allora Mr. Loba Loba Ah no Perché te i clienti Pregnata dovevi andare Verso altra porta La Mr. Bombastic It is fantastic Poi dovrò andare Dove cazzo Poi c'è solo una Robettina Eh sì Sono dentro Con il robotazzo Ah la Robettina Stava passando davanti Scusi dopo Aspetta Jager Adesso è da qua al vetro Non vedo nessuno Nemico nemico è arrivato all'esterno Eh Voleva farlo il cretino qua Un becino del merda C'è giù una C'è giù una C'è giù una Lanciato la granata L'ho acquistato Io io Cazzo Molto bene Leazar Cos'è accaduto Eh sulle scale Eh sulle scale Eh era cavera Su giù Su giù 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 Ora coprimi Io guardo su Tu guarda giù Guarda su Si sposterà Eh era cavera C'è una stronzata Eh lo sapevo Lanciato la granata Granata Non l'ho copito eh Guarda me Guarda me uno Guarda me uno Porca troia Cazzo Era copito Ma è scappata Come una ninja Com'è possibile Spero che c'era uno là Porca L'ho presa L'ho presa in testa Ed è sparita Cos'è magia È solito Direi che Faceva usare Difficialmente Ragazzi Dico avere un minimo Di mira Eh non so Ci sono sopra Ci ho provato Dove rischiare La ventola di violenza Ce n'era uno In fondo A sinistra Moro a sinistra Moro a sinistra Dimmo c'è uno Da parte posta C'è caveira Da parte posta Da parte È fortissima Nel senso che ci ha massacrato Prima No Non è possibile Occhi dietro moro Viste da dietro Ah porca puttana Dov'era C'è uno A sinistra È dentro A sinistra Uno Premo E anche a sinistra Tu adesso Dietro di te È dietro di te È un 3 È un 3 È un 3 Sta andando alla grande Sta partita Ah sì Devo usare un Madonna Stasera Siamo proprio bravi A giocare Mamma mia Ma che cazzo Ma che cazzo Ma che cazzo E vabbè Era silente Cresciata di merda No era caveira Gatto Cazzo Nella gola Ti faccio tremare Tutte le papille gustative Ma perché dovresti Come se l'hai preparato Che merda è Madonna La scritta la sta leggendo In realtà se non farò l'improvvisatore Non rompere Non è vero Grato Aaaaaah Un robot Eh vedi qua improvvisano Muro fortificato Questo è un robot Quello è un robot Sparagli Che cazzo aspetti Eh sto caricando Tu sei proprio un coglione Guarda Ma tu sei un coglione Ma Era un fischio Tu Dove li metto i muti qui E io dove E zitto Non sta Non sta individuato Dov'è Quando ho una corda Incaglietta Mi sono caccato Io mi chiudo qua dentro E nessuno mi parla mai uscire Sì ma non stavamo tutti qua Stavamo tutti qua No io me ne vado Chiudi su qua Mora tu sei Non c'è che c'era Il fuse da sotto Eh sì Ma mi avete chiuso fuori Face di cazzo Eh sì Mi hai chiuso a dire Chi sta pochettamente Ma li chiudi Questa è una stanzata C'è qualcuno che può guardare I bigodini I bigodini La puttana sono qui Dove qui Hai già trovati Bravo Hai visto? Tutti con i bigodini adesso Ho riempito le mutande però Sono i bigodini Dove stai fizzando Ai 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 Lì ha fizzato fuse Ma dai ci hanno messo pure il gemmer Guarda lì in fondo Perché I gemmer me li hanno rotto Ma perché mai l'ha fatto lì poi Eh perché Sfondava la porta Ma non è morto nessuno Sotto corvo sotto corvo Metti più in giro la telecamera Metti più in giro la telecamera Stanno sparando un po' Sono alla porta là in fondo Poi no Hanno rotto Ma dove sono? Che paura Chi è mira? Ma perché hai messo la finestra lì Lizer? Perché? Perché non serve un cazzo lì Mi hanno scoperto quelle impronte Qua sopra Ah è vero Sopra E invece serviva Vedi Moros Eh? C'è proprio uno dietro in quella stanza Ho capito Ma tanto da lì non ci possiamo andare Perché c'è l'altra roba C'è questa una nella botola Ah da dietro Ma ho appena guardato C'era qualcuno Porcavola Posta per me prenderla da dietro Aspetta c'è uno sotto Quindi nella botola Eh c'è uno dove sono morto io Moro C'è fuse Puttana ma ucciso Ma dove cazzo da sopra sta sparando È dalla botola Sì te l'ho detto No dai non è vero Non è dalla botola In prefire Jack l'ho ucciso Senza usarlo Eh Dalle scale Dalle scale Ma non siamo delle pippe noi Sono troppo forti loro Porca vacca Ci manca di sfiga oggi C'è solo No ma Ma non è solo C'è solo Moro Tanto è costando Che mi ha distrutto C'erano sette persone intorno a me Missione fallita Eh vabbè Oggi non ci facciamo Oggi niente Sì ma Boh No io ho fatto anche una stronzata Pfff Sono fatti di sterbe Quindi ti prendi le tue responsabilità e ti assumi tutte le colpe Quindi Stronzo di merda Allora esprit Allora Quindi Cosa facciamo Siamo di merda Eh ma tu Usciamo direi Ma Stai tranquillo Sì Tanto adesso Vediamo già la palla al gatto Ahia Eh Traghiamola Distruggiamo Distruggiamo E niente A domani mattina Come sempre Sì ci vediamo domani mattina E ci si vede adesso Da gatto Che giochiamo a briscola Tutti insieme In un tavolino È una briscola chiamata Facciamo No no Venite a vedere Se siete curiosi Scusa Eh Guarda Perché qua Non è che si dicono Di cattare Non è che Ciao Ciao Ma c'è il Sam Ciao Sam Ciao 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 Io non chiudo Rai comunque Quando ci chiuderei 9 Ciao Allora Ciao